Rimanere leader del settore delle macchine agricole per 70 anni e contare oggi il 90% di vendita all'estero non è cosa da tutti. L'Andreoli Engineering è un'azienda di nuovi di modena a conduzione familiare, dove la passione per l'ingegneria e l'innovazione sono state negli anni tramandate, di generazione in generazione. Fondata nel 1954 dai coniugi Mario e Felina Fantini, il primo passaggio di testimoni avviene nel 1980, quando la figlia dei fondatori Velma e il marito ingegnere Giovanni Andreoli entrano in società. In quegli anni progettano la loro prima macchina semovente, che ancora oggi rimane il fiore all'occhiello dell'azienda, richiesta in tutti i continenti. Anche dall'altro capo del mondo è troppo bello, troppo gratificante, perché poi il cliente quando apprezza diventa il tuo migliore operatore di pubblicità. Si chiede avere, che poi si trasformi in amici, amici in tutto il mondo, è fantastico, troppo bello. Già dalla sua fondazione l'azienda è sempre stata proiettata verso il futuro. Una vera e propria mission, se così si può chiamare, portata avanti dai tre figli dei coniugi Andreoli. Tutti e tre ingegneri meccanici, Francesco, Federico ed Enrico, condividono la stessa passione di nonno Mario per l'innovazione e la creatività. Non è un caso se tutte le macchine prodotte oggi dall'azienda familiare sono pezzi unici, inventati da loro. L'impresa di Novi non si è mai delocalizzata, sia per una questione affettiva che per un motivo pratico. Abbiamo trovato che comunque questo territorio, nel raggio di 30 chilometri, come dicevo prima, può offrire una soluzione interessante e disponibile per le presentazioni anche più avanzate. Ormai penso che fra un po' verranno a chiederci una macchina per andare a lavorare sulla Luna. Grazie.